Ciao amici, bentrovati! Oggi vi svegliamo i risultati della categoria Danza. Abbiamo avuto una selezionata ed unica vincitrice come miglior talento ed è lei. Bravissima, complimenti! Risultati della categoria Altri talenti. Abbiamo avuto varie abilità molto diverse fra loro, fra cui l'unica selezionata, la nostra coetessa. Il tuo silenzio e la tua calma mi spingono a parlare di me, a raccontarti le mie emozioni, a confessare i miei smarrimenti e le mie debolezze.